Oggi parliamo di Ford e dell'accesso diretto ai supercharger e non solo di Ford e poi un possibile, ma ne parliamo meglio, aggiornamento per Model S e Model X. A tra poco! Ben tornati a Lampi di Tesla. Parliamo di Ford perché nonostante un inizio qualche anno fa un po' altalenante con Tesla, poi sembra che Jim Farley, il CEO, si sia effettivamente messo in testa che probabilmente, se si vuole passare all'elettrico, Tesla è la strada da seguire, o comunque il carro su cui salire, insomma, il carro dei vincitori. Sì, perché già Ford è stata la prima casa che oltre un anno fa ha accettato come standard della porta di ricarica proprio lo standard proposto da Tesla e abbiamo visto che poi praticamente tutte le case automobilistiche hanno accettato questo standard. Parliamo ovviamente dello standard americano perché in Europa abbiamo già il CCS2. Bene, che cosa succede da ieri? Che una Ford Mustang Mach-E oppure un Ford F-150 Lightning, quindi il pickup, possono avere accesso diretto alla rete supercharger, quindi arrivano al supercharger, attaccano il loro spinotto e ricaricano la loro auto. Esattamente come succede per le auto Tesla. Tra l'altro Jim Farley proprio è voluto andare con una Mustang Mach-E presso un supercharger a provare l'esperienza di ricarica diretta. Tra l'altro Ford ha la propria rete di ricarica. Il design è molto molto simile a quello dei supercharger, solo che è bianco e blu, ovviamente molto più ristretta. Ora ci sarà da capire se anche le Tesla avranno accesso alla rete Ford. Ovviamente serve un adattatore perché a oggi ancora le autoprodotte non hanno lo spinotto Tesla, ce l'avranno dall'anno prossimo. Però secondo me è un passo avanti importantissimo, davvero importantissimo, per lo sviluppo della mobilità elettrica. Soprattutto negli Stati Uniti, dove a differenza dell'Europa l'unica reale rete di ricarica utilizzabile è quella dei supercharger. Perché esiste Electrify America, però è innanzitutto molto meno diffusa e comunque non è neanche così affidabile. In Europa la situazione è diversa perché abbiamo invece tanti gestori e comunque le reti non supercharger secondo me sono comunque affidabili e molto molto diffuse. Ma Ford non è l'unica perché Rivian sulla scia di Ford ha annunciato che entro marzo anche loro avranno la possibilità di questo plug and play. Quindi attacca l'auto o il pick up nel caso, parlando di Rivian, e la ricarica parte automaticamente. Ora invece parliamo di Model S e Model X perché ho visto oggi una notizia, ma attenzione, attenzione a chiamarla notizia, diciamo molto rumor, riportato da Tesla Scope. Ora Tesla Scope io non lo reputo affidabile al 100%. Questa è un'opinione mia che mi sono fatto nel tempo perché a volte ha avanzato anche delle certezze, anche per esempio sulla Model 3 Island, che poi non si sono rivelate corrette. Quindi un conto è fare della speculazione e dirlo, come ho fatto anch'io in passato, un conto è spacciare per certezze quelle che non lo sono. Quindi prendiamo con le pinze quello che sta dicendo Tesla Scope perché dice che a marzo, e dicono addirittura che la produzione è cominciata proprio oggi, Model S e Model X avranno un piccolo aggiornamento. Intanto verrà inserita la luce a LED interna, quindi come abbiamo visto in Model 3, il che è possibile, ma avrà anche la telecamera frontale, cioè quella sul paraurti. Ora su questo argomento, per esempio Tesla Scope aveva detto su Model 3 Island che ci sarebbe stata sicuramente, ecco questa è una delle cose per esempio che non tornava. Tra l'altro andando avanti nella discussione che c'è stata su X, a varie domande hanno risposto proprio con fonti sicure, succederà entro marzo, eccetera eccetera. Allora, diciamo una cosa, potrebbe effettivamente essere veritiero, anche se io non ne sono così convinto, perché la telecamera anteriore esiste sul Cybertruck per un motivo specifico, perché molti, moltissimi fuoristrada i pick-up ce l'hanno, ma per utilizzi fuoristrada, per vedere dove si mettono le ruote materialmente, potrebbe essere introdotta su Model S e Model X e successivamente a questo punto, mi viene da dire, su Model Y e Model 3, magari solo con funzione di telecamera e non per le funzioni di autopilot. Magari potrebbe effettivamente essere un'aggiunta alle altre telecamere per l'utilizzo del Tesla Vision nei parcheggi, e quindi Salmon, eccetera. Sinceramente io non credo che andrà così, potrei essere smentito domani, però questa è una mia convinzione personale, anche perché altrimenti avremmo una enorme fetta di auto senza sensori e senza telecamera che magari non vedrà mai Salmon e Autopark. Ecco, da questo punto di vista io non credo che Tesla agirà in questo senso. Comunque, non ci resta che aspettare e vedere se questa notizia è veritiera. E ora passiamo ai saluti e ringraziamenti. Proprio ieri abbiamo salutato Yves, che ha ritirato la sua nuova Tesla Blue, ma ha voluto anche supportare il canale, grazie mille, e mi ha scritto Ciao Fabri, grazie per i lampi di news che ci dai, quest'estate a luglio sono in Toscana, ti aspetto per un caffè. Beh, ricontattami quando sei in zona e se posso molto molto volentieri. E poi un grazie anche a Maurizio, che anche lui ha voluto supportare il canale, anche se poi non mi ha scritto niente materialmente, ha detto che anche lui mi offrirà un caffè, ci siamo sentiti via messaggio. Beh, grazie mille per il supporto. Questo è tutto per oggi, io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!